Il giro di perlustrazione dei geologi della regione nel territorio comunale di Marossica è iniziato questa mattina da via Panica, la strada di fronte al vecchio ospedale chiusa a causa di uno smottamento della collina che ha costretto il comune anche ad evacuare due edifici. Il rischio per la circolazione al momento pare molto limitato, è chiaro che dovremo ancora fare le nostre valutazioni per poi esprimerci in forma scritta, quindi per il momento non abbiamo notato delle situazioni particolarmente gravi, anche se esistono dei volumi riconosciuti in parete che sono da tenere sott'occhio, in particolare uno di oltre dieci metri cubi e un altro di quattro. In totale nella fascia collinare Marossicense si sono verificati una decina di smottamenti e nove frane, tre delle quali di dimensioni importanti a Crosara e a Laverda. In questo momento abbiamo avuto la segnalazione di un nuovo fronte che si è riattivato a Laverda, una frana abbastanza importante ma che non ci preoccupa sotto il punto di vista della sicurezza in quanto è in un punto abbastanza isolato. Importante in termini proprio di dimensioni? Sì, il fronte sono un fronte di circa 100 metri per cui è una dimensione importante. Una fascia collinare che si conferma particolarmente delicata sotto il profilo idrogeologico, numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici della regione accompagnati dal sindaco Matteo Mozzo. Oggi c'è una breve tregua ma preoccupano le precipitazioni in arrivo, sindaco? Questo sicuramente, noi siamo sempre in allerta, abbiamo il cocco aperto e teneremo un ritornato territorio, sappiamo che abbiamo un territorio bellissimo, ma proprio questa caratteristica che ci rende bellissimi ci rende altrettanto fragili. Grazie a tutti.